Voglio parlarti di una nuova app. Una app dedicata a chi vive il territorio. Una app per rimanere sempre aggiornati su ciò che di bello accade attorno a noi. No, non mi fa scaricare un'altra app che ha lo smartphone sempre pieno. Non ho detto che devi scaricarla. E dove me la metto? In tasca? È una web app ed è un sistema che ti permette di avere la app sulla home del tuo telefono senza doverla scaricare veramente. Continua. Guarda, c'è la sezione coupon. Navighi per categorie. E tramite una mappa interattiva scegli quali esercizi commerciali hanno l'offerta giusta per te. Poi, Will Up ti tiene sempre aggiornato sugli eventi e le splendide iniziative che ci sono sul nostro territorio. Mica come te che cerchi il concerto dei Rolling Stones a New York. Voglio sempre essere informato sui miei gruppi preferiti. Eh, però poi non ci vai perché sono dall'altra parte del pianeta. Eh, riuscissi a mettermi qualcosa da parte, un bel viaggetto me lo farei proprio. Ecco appunto. Sulla app c'è anche la sezione dedicata alla banca con tutti i suoi prodotti. E se sei socio, hai diritto a coupon e a contenuti esclusivi. Allora, che mi dici? Dico che devo subito scaricare un bel coupon per questa sera. Will Up, la app di banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci. Per chi vive il territorio.